Ciao ragazzi! In questo video vediamo come scomporre un polinomio del tipo ax² più bx più c con la tecnica del trinomio speciale. È importante puntualizzare che questo, in generale, è un trinomio che si può andare a scomporre usando la teoria delle equazioni di secondo grado, per cui possiamo andare a scomporre ax² più bx più c come a moltiplicato per x meno x con 1 per x meno x con 2, dove x con 1 e x con 2 sono appunto le soluzioni dell'equazione di secondo grado ax² più bx più c uguale a 0. Quindi questa tecnica di scomposizione si va a studiare nell'ambito delle equazioni di secondo grado. Possiamo però ritrovare una tecnica particolarmente facile nel caso in cui a sia uguale a 1. Questa tecnica di solito viene chiamata trinomio speciale oppure somma e prodotto. In particolare consideriamo questa notazione. 1x², quindi vedete considero il coefficiente di x alla seconda semplicemente 1, più sx più p. Usiamo i coefficienti sp perché sono più facili poi da memorizzare rispetto alla tecnica che vediamo in questo video. Quindi omettendo il coefficiente 1 vediamo come applicare la tecnica di somma e prodotto. L'idea è quella di andare a cercare tra tutti i sottomultipli del termine p due numeri a e b tali che la somma di a e b sia s, cioè il coefficiente della x che vediamo nel polinomio, e il prodotto a per b sia uguale proprio al termine noto p. Allora nel momento in cui riusciamo a trovare questi due numeri vale la scomposizione x² più sx più p uguale a x più a per x più b. Infatti se andiamo a svolgere questo prodotto x più a per x più b ritroviamo x per x x quadro, x per b bx, poi a per x ax e infine a per b ab. Andando ora a sommare i due termini in cui la parte letterale è x possiamo ritrovare x quadro più b più a x più ab, in cui vedete il coefficiente della x è proprio la somma b più a, cioè il coefficiente s, mentre ab è il termine noto p. Stiamo quindi ritrovando esattamente questo polinomio e questa scomposizione è corretta, l'abbiamo verificata. Vediamo ora come applicare questa cosa negli esercizi. E consideriamo ad esempio il polinomio x quadro meno 4x meno 5. Vogliamo andare a cercare tra tutti i sottomultipi del termine meno 5 due numeri a e b tali che la somma sia meno 4 e il prodotto sia meno 5. Vedete? Somma meno 4 prodotto meno 5. I sottomultipi del termine meno 5 sono più o meno 1 e più o meno 5 e quindi dobbiamo andare a cercare i numeri a e b tra le possibili coppie di questi. Si vede abbastanza facilmente che a uguale a 1 e b uguale a meno 5. Infatti vedete? 1 più meno 5 mi dà meno 4 e 1 per meno 5 mi dà meno 5. Quindi questi sono i due numeri a e b che rispettano somma e prodotto. Quindi il polinomio x quadro meno 4x meno 5 si può scomporre come x più 1 per x meno 5. Vediamo un altro esempio. x quadro più x meno 12. Applichiamo la stessa tecnica e andiamo a cercare tra tutti i sottomultipi del termine meno 12 due numeri a e b tali che la somma sia 1, a più b uguale a 1, vedete? Il coefficiente della x è 1 e il prodotto a per b si è uguale a meno 12, il termine noto che vediamo nel polinomio. Le possibili coppie di sottomultipli del numero meno 12 che dobbiamo considerare sono più o meno 1 e più o meno 12 oppure più o meno 2 e più o meno 6 oppure più o meno 3 e più o meno 4. Vedete? Ogni coppia di numeri ci dà come prodotto in modulo 12. 1 per 12, 2 per 6 o 3 per 4. Quindi andando a scegliere in maniera opportuna il segno riusciamo a trovare i numeri a e b che ci permettono di applicare questa scomposizione. Si vede che a deve essere uguale a meno 3 e b uguale a 4. Infatti a più b quindi meno 3 più 4 ci dà 1 e il prodotto a per b meno 3 per 4 ci dà meno 12. Sono proprio i due numeri che vogliamo e quindi possiamo ritrovare la scomposizione x quadro più x meno 12 uguale a x meno 3 per x più 4. È importante osservare che nulla ci garantisce che esistano due numeri interi a e b tali da rispettare la somma e il prodotto richiesto dalla scomposizione. E in generale questa cosa può essere vera per numeri a e b che sono irrazionali. Anzi, nel caso in cui l'equazione di secondo grado che studiamo non ha soluzioni reali, questi numeri potrebbero non esistere. Quindi questa tecnica del trinomio speciale è da applicare solo nei casi facili in cui effettivamente riusciamo a trovare facilmente a e b. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire la tecnica di scomposizione del trinomio speciale, detta anche somma prodotto. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete il mi piace e fate un commento. A presto!